finalmente è finita la giornata come sta holmes bene grazie suppongo che non abbiamo novità sul caso di white chapel niente di niente è già passato un mese forse l'assassino ha messo fine alla sua macabra carriera ne dubito watson non ha indagato sulla questione del rene inviato del presunto assassino watson jack lo squartatore non agisce mai senza un obiettivo chiaro nell'unica occasione in cui ha inviato un messaggio alla comunità lo ha fatto con una chiara intenzione e ha lasciato una prova inconfutabile in modo che nessuno dubitasse della sua autenticità possiamo dire la stessa cosa di quel rene holmes non è un buon momento per indagare su un nuovo caso assolutamente devo solo trovare quel tipo joseph anche se ho l'impressione che stia cercando di evitarmi di sicuro nasconde qualcosa non crede anche lei watson in quanto al dottor tumble t ce l'abbiamo signor holmes l'abbiamo trovato chi il dottor bumblebee era stato arrestato ma l'hanno rilasciato lo abbiamo visto per strada signor holmes ma sembra molto inquieto all'aria di voler fuggire watson questa è la nostra opportunità spero che il dottore torni alla pensione per recuperare il suo prezioso paure in quanto a voi miei fedeli soldati non sapete quanto vi sono grato è qui quel folle qui l'ho visto salire in camera e credo sia armato ha fatto quello che le avevo chiesto con il baule certo l'ho riempito di pietra ed ho rotto il catenaccio chiamo la polizia per il momento no torni a casa e chiuda la porta chiave se sente uno sparo avvisi la polizia watson è ora di usare il revolver spero sia pronto fermo o sparo ma che succede ottimo lavoro watson è più coraggioso di quanto pensassi senta ho già detto tutto ai suoi colleghi del commissariato non siamo poliziotti signore siamo qui per parlare di organi umani questione che a quanto pare la interessa da vicino come chi siete voi quelli che le puntano addosso una pistola dottore e adesso risponda a una domanda tumulti ha cercato di ottenere degli organi riproduttivi femminili negli ultimi mesi dunque era di questo che volevate parlarmi potevate dirlo subito amici se tanto vi interessa vi mostrerò la mia collezione sono sicuro che l'apprezzerete le donne mi fanno schifo sono il più grande errore della natura io cerco solo di educare i miei simili inculcargli l'amore per la mascolinità come fecero i greci nell'antichità quest'uomo è fuori di senno holmes non ha risposto alla mia domanda ha cercato di ottenere organi femminili sì tempo fa quando vivevo a liverpool cercai di ottenere dei campioni più freschi malgrado la sostanziosa offerta che feci a molti direttori di ospedali universitari nessuno volle venirmi incontro paura di cosa si chiederanno ma c'era da aspettarselo dai timorati medici britannici ne ho abbastanza tamperti ha ucciso lei quelle donne o no le assicuro di no se avessi voluto degli altri uteri avrei trovato dei metodi più sicuri o forse non sanno che in questa vita tutto ha un prezzo io non correrei mai un rischio simile sono uno scienziato non un criminale ma devo comunque congratularmi con l'assassino non lo conosco ma gode della mia più grande ammirazione sta esagerando tamperti si calmi watson bene dottore abbiamo terminato le consiglio di abbandonare londra il prima possibile la sua vita è in serio pericolo non tema a mai più dottore ma lei gli crede holmes non è l'assassino watson non corrisponde al profilo che abbiamo definito ad ogni modo lo farò tenere sott'occhio ascoltatemi soldati quando quel dottore uscirà di qui voglio che lo seguiate ovunque appena scoprirete dove alloggia avvisatemi agli ordini capitano grazie grazie